Era partito per il fronte russo nel 1941. Qui l'esercito italiano, insieme alle truppe tedesche, aveva il compito di fermare l'avanzata dei russi. Calogero Michale, classe 1915, di Capodorlando, figlio di Antonino Michale e Nunziata Mangano. Una famiglia di sette fratelli, Francesco, Carmelo, Giuseppe, Margherita, Antonina e Lucia, Calogero era il più piccolo dei maschi. Come tanti soldati italiani allora fu destinato nella campagna di Russia. Di lui restano alcune notizie e questa foto che, come scritto sul retro, porta la data del 1941 inviata dal fronte con la dedica a mio nipote Nino. Le notizie dal fronte si sono interrotte dal Natale 1942, da quando risale la data della sua morte presunta, 31 dicembre 1942. È probabile che, come tanti soldati, sia morto durante il trasferimento dal fronte ai campi di concentramento russi e per questo risulta disperso, a differenza di chi ha avuto la fortuna di raggiungere i campi ed è stato schedato. Lo zio dovrebbe essere morto durante il trasferimento dal campo di battaglia ai campi di concentramento. Dobbiamo considerare che nell'inverno del 1942 c'era una temperatura di meno 35 gradi, i soldati erano scarsamente attrezzati come scarpe, come vestiari, non venivano neanche riforniti di cibo e quindi questo trasferimento, che in molti casi era di circa 200-300 km fatti a piedi, praticamente durante il trasferimento gran parte di loro morirono. Venerdì 21 ottobre la notizia inaspettata è stata ritrovata la piastrina identificativa. Siamo stati contattati da un gruppo di alpini di Trento, il quale a loro volta sono stati contattati da un gruppo di ricerca russo, gruppo di ricerca che attualmente è in possesso della targhetta identificativa di mio zio Calogero. Quindi hanno contattato questo gruppo di alpine di Trento, il quale a sua volta ha effettuato ulteriori ricerche arrivando a noi a Capo d'Orlando. Successivamente ora ci siamo messi in contatto con questo gruppo sovietico perché la loro intenzione è consegnarci questa reliquia. Dalle prime indicazioni che abbiamo, molto probabilmente, ci verrà consegnata, verrà consegnata questo gruppo di alpine a Trento e poi loro provvederanno a consegnarla a noi.